Siamo a Castellanza in via Buongesù al numero 33 per un fantastico viaggio a due ruote con Ceriani Moto. Andiamo! Siamo in compagnia del titolare Paolo Ceriani, leader indiscusso da oltre 60 anni, che ci presenta i nuovi modelli Suzuki. Sono arrivate in azienda le nuove Suzuki GSX-S Naked e la F carenata. Siamo nello spazio dedicato a un grandissimo marchio, stiamo parlando di MV Augusta e questi sono i nuovi modelli. Sottolineiamo un modello veramente eccezionale, sto parlando del Dragster 800RR MV Augusta, per chiudere con la brutale 800RR. Siamo in compagnia di Rossella che ci presenta l'ampio e vasto reparto abbigliamento di Ceriani Moto. Sì grazie, abbiamo abbigliamento personalizzato, quando le persone vengono da noi riusciamo a vestirle in maniera molto individuale, dalla tuta in pelle alle marche con giacche di tessuto tecnico, caschi, guanti e tutte le parti di protezione che in questi ultimi anni vanno per la maggiore. So che potete anche curare nel dettaglio la singola persona. Sì esatto, abbiamo una persona dedicata che studia l'individuo che viene presso di noi e che ad hoc calza appunto la giacca, la tuta di pelle, gli stivali, le scarpe e tutto quello che concerne per quanto riguarda l'abbigliamento specifico e tecnico moto. Un'ampia scelta e curato nei dettagli anche per quanto riguarda il reparto accessori. Sì un'altra zona che curiamo singolarmente quindi il cliente viene e sceglie la moto e riusciamo a personalizzarla è quella degli accessori. Evidenziamo nel reparto accessori anche tutti i ricambi originali. Sì abbiamo tutta la scelta del ricambio Suzuki in questo caso che diamo alla nostra clientela per poter sostituire le parti che si usurano alle moto. E adesso ci svaghiamo nel reparto ciclo queste bellissime biciclette. Sì questo è il reparto diciamo che ha dato vita a questa azienda, Ceriani Giulio che è il fondatore di questa azienda ha creato la Salta Fosse e da lì abbiamo iniziato. Grazie a tutti.